Il seminario di oggi si occupa delle raccomandazioni della Task Force on Climate Related Financial Disclosure, in particolare del tema degli analisi di scenario e dei rischi delle opportunità per le imprese. Avremo una prima parte nella quale tratteremo il tema della disclosure non finanziaria e il tema dei rischi climatici. Poi affronteremo le raccomandazioni della Task Force come quadro generale e quindi gli scenari dell'IPCC sui rischi fisici e gli scenari prodotti della comunità scientifica sui rischi di transizione. Questa prima parte poi servirà da base per la discussione che ci sarà nella seconda parte dove in una tavola rotonda metteremo assieme diversi punti di vista, investitori, imprese, comunità finanziaria, risk manager con l'obiettivo di trasferire alle imprese che parteciperanno al seminario una serie di punti di vista sulla gestione di questo periodo di innovazione nelle forme di rendicontrazione.